Non li dimenticheremo soprattutto perché la loro memoria costituisce e costituirà un faro, un orizzonte, un orizzonte di speranza, un orizzonte di pace. Nelle parole del sindaco di Alghero Marco Teddi, ricordo del caporal maggiore scelto Gianmarco Manca, l'alpino algherese uccisa ad ottobre durante una missione in Afghanistan. Nella città catalana anche i vertici regionali dell'esercito si sono stretti intorno ai familiari del soldato, a cui è stato attribuito il premio internazionale Giuseppe Sciacca. Questa cerimonia per ricordare il sacrificio di Gianmarco ma anche per sottolineare l'impegno dei militari italiani all'estero. Il sacrificio di Gianmarco, come è stato già ricordato dal sindaco, ha risparmiato tante altre vite umane in quei teatri, in quei luoghi dove ancora la stabilità non è stata raggiunta. E lo sarà, con l'impegno dei nostri soldati, a volte, speriamo mai, ma a volte, fino all'estremo sacrificio. Il premio Sciacca, istituito nove anni fa dall'Associazione Uomo e Società, è intitolato ad un giovane studente di architettura morto durante un lancio con il paracadute, avvenuto nei cieli della capitale in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna.